E' avviato il cantiere di ricostruzione per il proprio della Basilica di San Benedetto di Noce? In realtà le opere che si stanno realizzando in questo momento attengono già al processo di ricostruzione perché predispongono il cantiere per far partire immediatamente i lavori. Lo sgombero dell'ultima parte della Navata è previsto per il 31 di dicembre in modo tale che si possa partire e definire tutti gli aspetti di lievo che sono necessari per fare il bando per la progettazione. Ci siamo dati dei tempi con il Ministro e i tempi sono di riuscire a completare la progettazione entro il 2020 quindi bando, affidamento e progettazione entro il 2020 per poter dare l'avvio formale dei lavori della Basilica entro il 2021. Questa è una notizia importante, una notizia che ci dona grande fiducia, grande speranza. Abbiamo detto che dobbiamo essere capaci di superare tutte le difficoltà di carattere politico che ci sono tutte le diversità, i cambi di governo, tutto quello che accade dovrà essere superato perché questo simbolo triste purtroppo degli eventi sismici del 2016 che è la Basilica di San Benedetto deve tornare a risorgere e dobbiamo ricostruirlo perché intorno alla Basilica di San Benedetto potremmo ricostruire la nostra comunità. Per la ricostruzione privata?